Domenica al partenio Lombardi c'è la Ternana. La squadra di Gallo, reduce dalla frenata interna, per certi versi in attesa contro il Bisceglie, giungerà in Irpinia con la voglia di riscatto. Il match dei liberati, che non ha regalato il sussurto alle fere, scatanati nel primo tempo grazie a Rousse e Mammarella, potrebbe lasciare strascichi pesanti. Quinto in classifica, i due punti persi contro i pugliesi pesano dopo la vittoria del Potenza sul Catanzaro. 51 punti in cascina per i Neroverdi, 14 le vittorie, 9 pareggi e 6 K.O., tra cui quello del match di andata con i Lupi, in rete Charpentier, per la prima vittoria grifata Capuano. In trasferta il ruolino di marcia per le fere e di quelli imponenti, 7 vittorie, 5 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Solo in 3 hanno fatto meglio di Mammarella e compagni, Regina, Monopoli e Bari. 38 gol fatti, 27, quelli subiti, fuori casa, Bomber, Ferrante e compagnia cantando, sono andati in rete ben 17 volte e la difesa ne ha incassati 11. Sempre Ferrante con 7 è il miglior marcatore, ma la compagine cara Stefano Bandecchi segna con tutti i reparti e può vantare anche sull'apporto del duo, ma è lungo e vantaggiato, non proprio gli ultimi arrivati. Mister Capuano cerca il pronto riscatto dopo il K.O. in casa del Bari. Inoltre c'è da vindicare l'amara eliminazione in Coppa Italia quando Nesta piegò i biancoverdi, che avevano trovato anche il gol del pareggio con i Janes, annullato dall'assistente Vettorel. E che, soprattutto, quella gara costò la squalifica a Mister Capuano per le sue dichiarazioni nel post partita.